Buonasera e ringrazio tutti per essere qui questa sera appunto. Permettetemi di ringraziare un caro amico ed un professionista che voi tutti avete modo di conoscere perché ci racconta quotidianamente la cronaca del nostro territorio ed è Vincenzo Perone. È particolarmente emozionante questa sera e lo dovete a loro, a questi splendidi ragazzi che su questo piano a coda, in questo cortile dove un tempo c'erano delle riunioni anche di morte ci sia uno dei pianisti più creativi del nostro mezzogiorno a suonare una musica viva e questo è il modo migliore quando si dice che un bene confiscato alle mafie viene restituito alla comunità dei suoi cittadini. Un'altra dei progetti di AIB è proprio quello di scoprire nuovi talenti, quindi il lancio di nuovi artisti. AIB è presente su tutte le piattaforme digitali, quindi ancora una volta provvedono alla alfabetizzazione musicale attraverso quindi la divulgazione di tutte quelle che sono delle rubriche curate da esperti su vari generi musicali. AIB è stato molto interessante. Grazie a tutti. 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 Siamo qui per assistere ad una live session riguarda quindi rientra quindi nel progetto live session del live e siamo qui per ascoltare un concertista di fame internazionale che è Gesualdo Coggi. Grazie a tutti. 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 Grazie.